Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi porto l'unboxing del Garmin Venue SQ. Perché? Perché dopo aver portato gli unboxing e le recensioni praticamente tutta la gamma Fenix 6, il top di gamma per quanto riguarda i wearable, gli indossabili orologi della casa di Garmin, ho visto un po' di video online di caratteristiche di questo Venue SQ e mi ha molto interessato e per questo ho deciso di portare l'unboxing e poi successivamente porterò la mia recensione in merito a questo prodotto. Ma subito dopo la sigla andiamo con l'unboxing. E partiamo con l'unboxing di questo Garmin Venue SQ. SQ sta per square per quanto riguarda appunto la forma che ha il dispositivo. La scatola esternamente non dice nulla, non neanche le caratteristiche, non fa trappare assolutamente niente, diversamente dagli altri scatole che abbiamo visto della Garmin, dove solitamente esternamente ci sono scritte un po' le caratteristiche del prodotto. Vediamo un po' com'è. Manualistica che è una Bibbia praticamente, ma è in tutte le lingue. Cavo di ricarica che mi sembra, se non sbaglio, che sia il solito proprietario di Garmin, appunto, incastro, che è lo stesso identico che c'è anche sulla Garma Fenix, quindi lo stesso identico tipo di ricarica. Altro manuale e nient'altro. All'interno poi troviamo, grazie al cielo, che c'è l'orologio. Vediamo se riesco a toglierlo dalla sua confezione, senza sfasciare tutto. Ok, perfetto, eccolo qua. Andiamo a vedere un po' più da vicino. Eccolo, sopra vediamo che ha una pellicolina che andiamo già a togliere. Intanto provo a accenderlo, a vedere se c'è un po' di batteria. Ecco, si sta accendendo. Quello che mi ha incuriosito, e mi ha fatto un po' anche storcere il naso all'uso, perché penso a chi ha comprato e chi possiede i Fenix 6, come ho fatto anche io col Pro Solar, questo piccolino da 180 euro, che si trova online con le varie offerte, ha lo stesso identico sensore posteriore per la rilevazione dell'ossigenazione del sangue, del battito cardiaco, ha lo stesso identico sensore per la rilevazione di tutto. Quindi l'ultimo sensore, il più performante, di casa Garmin. Questo, a mio avviso, è molto bello per chi compra un dispositivo da 180 euro, ma onestamente direi non bello e non molto carino, perché ha comprato quello da 900, 800, 700, 600 euro di dispositivo. Che trovarsi lo stesso identico sensore, boh. Il cinturino è un bel silicone, morbido, piacevole, ha il tatto così, quindi dovrebbe essere anche molto morbido da tenere al polso. Qua dietro vediamo l'aggancio, come dicevo, proprietario per andare a caricare il device, che ora non so quanto durerà, lo proverò e poi vi farò sapere, da online ho letto 5-6 giorni, dipende dall'utilizzo, comunque vedrò poi col mio utilizzo quanto durerà realmente. Lo metto qua vicino al GTS, tanto per far capire un po' le differenze di dimensioni, e come vediamo sono abbastanza simili. Il Garmin è un po' più spesso, abbiamo materiali qua tutta plastica, mentre il GTS è comunque sia in acciaio, ma la sensoristica vediamo diversa, e questa se è come quella della gamma Fenix, quindi con quelle caratteristiche e quella qualità, sicuramente valida. Qua vediamo un po' che si può, ah è touch, bene. Dico ah è touch, stranito perché io sono abituato ai Garmin, quelli appunto della gamma Fenix, che non sono assolutamente touch, quindi già avere un dispositivo che lo è nella casa Garmin, per me fa strano perché non sono abituato, però in realtà questo non ha molti pulsantini, ed è un tipo di prodotto che ci sta che sia touch. Ora, vediamo un po' di connetterlo, ecco qua, ho già trovato con l'applicazione il dispositivo, fai connetti, scollegare al Venue SQ, sì, perfetto, si sta connettendo. Qua mi chiede il codice che è apparso qua sopra, lo devo inserire, e si connette. Fine. Proviamolo un po' al polso per vedere un po' com'è. Ah, cosa bella che non avevo notato, che vi faccio notare che per me è un plus non da poco, che mi piace un sacco chi lo mette, il pinnetto, qua vedete il dentino, per incastrare il cinturino in modo che non svolazzi libero quando se lo si ha al polso. Non ce l'hanno tutti, come ad esempio il GTS 2, tanto per fare un esempio di uno che sto utilizzando, non lo ha. Quindi questo, il fatto che lo abbia, è un plus non da poco per quanto mi riguarda, perché è veramente comodo avere quel gancettino lì che non lo usano, non lo mettono tutti, non so perché, però oggettivamente è molto comodo. Al polso, beh, ovviamente sta bene, è piccolino, non si può pensare che possa dar fastidio a star comodo, assolutamente. Direi che come questo primo approccio e unboxing e configurazione è tutto. Vi faccio iscrivere al mio canale, se avete voglia, vi fa piacere, così mi aiutate a crescere e soprattutto non vi perdete la recensione che farò successiva di questo Garmin Venue SQ. Grazie e al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti!